Si rifà la graduatoria. Sono molto grandi questi qua ed è limitante il periodo dei quattro. Sono famiglia perché sono molto grandi, io li ho vissi, vi parla di 180 metri di paio. Sono a due per altri piatti, un quarto per altri piatti. Poi la caserma genti che è ancora però segnalizzata all'esterno di un città. No, la stanno mettendo tutta, non è più massima disponibilità dei ministeri. Non è più facile. Mi sembra di rastrano ai bucchi. Si.